onestamente sono molto curioso e anche gasato di sentire quello che sarà italiano le p di sfere basta con russian e ne sono molto entusiasta perché sfere basta vabbè l'ultimo disco un po' a livello di sonorità secondo me ha deluso un po' le aspettative dei fan mettiamola così però sono anni si può dire sì anni uno due anni che va avanti tra featuring e nel suo stile si può dire che non ne sbaglia uno poi qui si dovrebbe aprire una grande parentesi però insomma voi come sapete io sfera lo rispetto mi può piacere mi può non piacere ma lo rispetto tantissimo e paradossalmente in prospettiva dei rapper emergenti di adesso mi sento anche legato diciamo al fatto che comunque lui ha aperto un po' una corrente se vogliamo a cui adesso si stanno attaccando di generazione in generazione diciamo no perché nel senso che adesso stanno passando la mano perché è finita l'ondata trap e quindi secondo me sfere basta adesso dovrà essere in grado di rinnovarsi cosa che nel disco precedente non è riuscito a fare e allora sono curioso di vedere se ce la farà e se questo EP sarà a fatti concreti un disco di 5 tracce che in qualche modo può fare una piccola rivoluzione stilistica del sottogenere di quello che diciamo è il rap oggi che è molto differente dal passato e anche qui bisognerebbe aprire una grande parentesi ma non sono interessato non in questa sede un'altra cosa molto interessante è i featuring col buon Fivio con Mike Towers e con Bia tre featuring internazionali per un disco che si chiama italiano quindi lui praticamente grande mossa perché lui con questo progetto si auto elegge e i numeri gli danno ragione perché i suoi numeri sono sempre enormi l'artista italiano del mondo e tre featuring di questo livello sono la prova che quello che dice è così cioè nel senso sono confermato cioè io mi auto eleggo re in Italia mettiamola così e mi devono dar ragione i numeri in Italia e a sfera bene o male i numeri gli danno gli danno ragione ma per esserlo nel mondo io ho tre capoccia dell'industria internazionale che lo confermano perché collaborano con me questa è la mentalità che mi piace mi sembra vincente poi la sonorità dovrà parlare da sé sicuramente il producer è uno che insomma roba coi controcazzi quindi anche qui la scelta è giusta e inoltre quello che voglio dire è che vabbè c'è la traccia mamma mia ovviamente ma non è quella dei Vaneskin quindi diciamo che prendiamo anche il luogo comune italiano Andem che esce questa notte a luna per chi l'ascolta questo podcast prima dell'uscita e poi abbiamo vabbè tre featuring una copertina semplice una roba facile che comunque appunto riporta lo stile italiano no quindi la bandiera italiana e anche proprio lo stile vecchia scuola italiano le lire sembra che ci sia il prezzo no e secondo me la cosa più importante è che questi featuring sono spontanei nel senso che lo stesso Fivio ha fatto un breve discorso in cui ha detto o ha scritto sono nell'album addirittura anche se è un EP di Sfere Basta è l'artista italiano nel mondo più forte quindi un prox reale quindi come a dire oh non è che il classici featuring comprati così come si può dire anche su J Balvin quando fece il featuring Sfera comunque fecero il video insomma non è che fu proprio una marchetta se vogliamo quindi c'è anche da dare questo onore diciamo a Sfera che se dobbiamo metterlo dal punto di vista dei testi io lo reputo forse il più scarso d'Italia come sapete ma se dobbiamo andare a vedere invece il gioco in cui gioca lui tra stile e la sua tipologia di testo io sicuramente lo preferisco a tutti gli altri perché veramente perlomeno lui è il capostipide quindi dice ok io mi voglio ascoltare sta roba però mi ascolto Sfera non è che mi vado ad ascoltare tutti quelli che stanno dietro no che poi magari qualcuno lo fa anche molto bene però insomma per me sono della sua scuola lo preferisco soprattutto perché ragazzi Sfera come persona è un ragazzo che ci ha creduto veramente e che ci ha creduto in un momento in cui veramente c'era poco da credere ci ha provato in ogni modo e ci ha provato con un genere che in quel momento ancora non esplodeva completamente anzi in Italia stava iniziando e quindi ci ha visto lungo e a me piace chi ha l'intuizione e quello che ha fatto Sfera a livello di storytelling video con i suoi primi video appunto e via dicendo quello che ha fatto lui agli inizi ha creato proprio un universo che ha coinvolto tanti ragazzini giovanissimi per carità non ne stiamo a parlare però ha fatto una rivoluzione discografica ha fatti concreti in Italia e quindi hai la mia stima comunque e il mio rispetto come persona più che come artista e sono curioso veramente molto curioso di sentire come suonerà la prima traccia sperando sperando che non mi deluda e poi tutto l'EP quindi un bocca al lupo a Sfera come sapete non mi farò problemi a criticare asparamente se il concept mi farà cagare ma spero di proxarlo perché comunque è un bravo ragazzo che fa il suo per la prima traccia